La condivisione, l'amicizia e l'inclusione passano attraverso le buone abitudini alimentari, il divertimento e la sana competizione sportiva. E' quanto emerso dall'incontro informativo dal titolo Il potenziale educativo dello sport e abitudini eco-compatibili con la partecipazione di esperti e ospiti di rilevanza nazionale organizzato dalla scuola di ciclismo Ludo Bike di Biceglie. Noi proprio come adulti dobbiamo dare la possibilità a tutti questi ragazzi di poter fare un'attività sportiva. Soprattutto poi il nostro obiettivo, quello dei direttori sportivi e anche come presidente, l'obiettivo nostro è quello di includere tutti quanti cercando di dare il massimo delle nostre capacità. Il forum all'interno della manifestazione Puglia Bici e altre felicità è stato organizzato con il contributo della Regione Puglia, assessorato allo sport per tutti, con il patrocinio del Comune di Biceglie, della Feder Ciclismo e della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. Veniamo da una stagione in cui abbiamo partecipato a diverse attività dove lo sport ha fatto da Tredunion con tutto quello che riguarda l'inclusione perché poi lo sport è e deve essere un veicolo per parlare di altri temi. In questo caso si parla non solo di inclusione ma anche di felicità che è il punto di partenza per tutto quello che noi facciamo e che le società sportive dovrebbero fare. Quindi noi come amministrazione siamo assolutamente vicini e sosteneremo tutte le iniziative che parlano di questi temi. Un weekend di festa pensato per tutta la famiglia, filo conduttore delle due giornate, le buone pratiche, i comportamenti che stimolano i bambini e i ragazzi a diventare individui consapevoli e solidali. La costanza fa tutta la differenza perché l'allenamento dopo allenamento, il potersi preparare per una gara, il poter vincere ma allo stesso tempo perdere possono fare la differenza nel proseguio della propria attività atletica. Quindi lo sport insegna questo, a saper vincere ma anche a saper accettare le sconfitte, a cooperare, a collaborare con i propri compagni di squadra e a rispettare soprattutto l'avversario.